La tecnologica in Italia deve essere cambiata. Prima c'erano i sciechi, che si chiamano sciechi, oggi si chiamano non vedenti, i sudi si chiamano non vedenti, gli anticattari oggi si chiamano diversamente, i monumentali oggi si chiamano non vedenti, i lati non si chiamano più mali, si chiamano non vedenti.